Una buona giornata amici che ci seguite. Mese di settembre che passa di archivi come uno dei più dinamici degli ultimi decenni, con il ritorno delle piogge la fine definitiva del dominio indiscusso dell'anticiclone africano per tutta la stagione estiva. Mese di settembre pertanto dai connotati tipicamente autunnali, con le piogge e le temperature scesi sotto la media. Qualche pausa di tempo più stabile e soleggiato come in questi ultimi giorni del mese. Detto quanto vediamo quale sarà la tendenza meteo per la prossima settimana. Secondo il nostro modello di calcolo l'anticiclone e le alte latitudini si muoverà lentamente verso est lasciando campo libero al transito di masse di aria più umide di matrice atlantica. Ecco pertanto che già dalla giornata di lunedì e in quella di martedì nuove piogge potrebbero interessare molte regioni italiane, specie quelle centrali. Il tutto accompagnato dall'ingresso di venti settentrionali e temperature in calo specie sui settori orientali della penisola durante la seconda parte della settimana. Al momento è tutto, seguite i prossimi aggiornamenti sul tempo in Italia anche per la prossima settimana.